si è con noi sul palco serena buonasera grazie grazie che bello ringrazio anche luciano che mi appena dato della grassa cosa vera tra l'altro comunque io oggi non riesco a contenere la gioia non riesco a contenere la gioia perché ho raggiunto un traguardo che aspettavo di raggiungere da anni e sono contentissima di poterlo dichiarare oggi a Pinerolo potevo andare a Los Angeles ma no signori qui a Pinerolo lo dichiaro signori e signore con oggi sono 29 anni e 76 giorni che soffro d'ansia ininterrottamente non ho perso un giorno non ho perso veramente un giorno era difficile tra l'altro anche perché facciamo un breve sondaggio quanti di voi sono ansiosi come immaginavo bugiardi nessun vero ansioso alzerebbe la mano senza prima conoscerne le conseguenze anche perché adesso in questo momento sono tutti ansiosi guarda ieri sono arrivata in stazione un'ora prima del treno perché sono una pazza ansiosa e il primo dicembre so già cosa fare a capodanno sono il Jeff Bezos della preoccupazione ragazzi ragazze io nei miei stessi sogni quando faccio gli incubi inserisco le pubblicità cioè magari io sto sognando di camminare per strada e c'è un uomo dietro di me con un coltello che sta per uccidermi questo incubo è gentilmente offerto da Miracle Blade affetta senza problemi carni pesci e giugolari io in pratica mi creo suspense mi autocreo suspense prima della mia stessa morte io non ho un cervello al comando io direttamente Steven Spielberg col temperamento di Pietro Pacciani ma io vi capisco perché in fondo non è facile essere realmente ansiosi in questa società in cui ci fanno vedere film tipo lei sta andando in aeroporto ormai al gate e lui la raggiunge in tutta fretta e difficoltà attraversa la città in un quarto d'ora arriva e le dichiara amore eterno e dove la lasci la macchina Heathrow Londra il giorno della vigilia di Natale chi sei Harry Potter Heathrow è l'aeroporto più trafficato d'Europa con un totale di 80.886.000 passeggeri l'anno una media di 221.607 passeggeri al giorno per un totale di 51.500 posti auto è matematicamente impossibile che senza prenotazione tu possa trovare posto e arrivare in tempo dalla tua fottuta fidanzatina scacco matto improvvisatore emotivo non credeteci non succederà mai rimarrete soli a vita ma questo è una storia personale che non mi va di raccontarvi dunque io no in realtà fin da piccola non ho mai creduto a queste menate anche la Disney io ho sempre scagato la Disney non mi è mai piaciuta per esempio la storia di Biancaneve cioè a me da buona ipocondriaca l'idea che uno sconosciuto possa avvicinarsi e baciarmi mi fa inorridire mi fa piangere non mi fa emozionare ma d'altronde che la vita fosse già cominciata in salita per me si è visto alla nascita quando i miei genitori maggiori azionisti dell'ansiolin decidono di chiamarmi serena ecco non ci va proprio un esperto in genetica uno scienziato per capire che l'ansia si trasmette dai genitori ai figli quindi se io io so che se avessi una figlia metterei in conto che l'ostetrica potrebbe venire a dirmi signora è nata è bella exanax e non la chiamerei critica sociale comica e non la chiamerei non lo so con nomi aulici aurora beatrice laura no la chiamerei pina benzodiazepina così lo sa già dalla nascita qual è il suo futuro però devo dire che io ormai con la mia ansia ci convivo anche perché la mia ansia è creativa e simpatica infatti si sviluppa in diversi stadi un po come i pokemon il primo stadio di quando ero piccolo erano i tic sono dei movimenti muscolari involontari che arrivano quando vogliono e ti rovinano l'intera esistenza una roba simpaticissima c'è chi si accarezza i capelli in questo modo c'è chi si morde le labbra io invece mi accovacciavo e iniziavo a sbattere braccia e gambe contemporaneamente io non ero una bambina io ero una gallina autolesionista fortunatamente però a questa ruota del disagio avevamo vinto tutti in famiglia e quindi anche i miei cugini avevano i loro tic uno infatti si stroppicciava il naso e l'altro sbatteva in continuazione gli occhi quando passeggiavamo insieme sul lungomare in liguria dove abbiamo la casa sembrava stessero girando il remake di qualcuno volò sul nido del cuculo più o meno la situazione era la stessa adesso invece devo dire che la mia ansia si è evoluta e dai tic siamo passati agli attacchi di panico allora piccola spiegazione proprio tecnico scientifica su cosa sono gli attacchi di panico immaginate la cosa più spaventosa e paurosa che vi possa venire in mente adesso immaginatevelo uguale ma raccontata dalla voce di giorgia meloni più o meno è una cosa così tu sei in camera tua stai malissimo sei nel letto speri che dio ti venga a prendere sei sotto le coperte passa tua madre mangiando una brioche che ti dice ma andiamo a fare una passeggiata e passa tutto ed è più o meno la stessa sensazione di quando lo stato ha approvato il bonus terme ma non il bonus psicologi hanno l'ansia dategli una jacuzzi più o meno è la stessa cosa più o meno è la stessa cosa perché la verità è che di salute mentale se ne occupa veramente troppo poco lo stato ma in generale le persone c'è tantissimo stigma intorno a queste malattie mentali a questi disturbi ed è un peccato no è un peccato perché vuol dire che non abbiamo imparato veramente nulla prendete per esempio il caso di simon biles non so se vi ricordate simon biles simon biles atleta americana pluripremiata vincitrice delle olimpiadi che si ritira in corsa durante le scorse olimpiadi dicendo di avere di soffrire d'ansia di soffrire di un disturbo mentale quindi di voler essere lasciate in pace di non poter continuare ad affrontare la gara panico panico perché ovviamente tutti siamo abituati a infortuni fisici no allora lì puoi fare grandi testate giornalistiche oddio questa soffre d'ansia come lo scriviamo sui giornali e un amico effettivamente anche ha dato il suo enorme contributo alla causa quando eravamo sul divano accende la tv vede la dichiarazione di simon biles e dice ma effettivamente a me pare che stia bene e io subito stavo per smattare ma perché voi non le riconoscete le persone con i disturbi d'ansia ho pensato ma ragazzi ma è normale è normale perché qual è la rappresentazione media di una donna sulla trentina con un mental breakdown in una qualsiasi serie tv in un film allora di solito la donna è seduta su un divano rosso con una vestaglia rosa di ciniglia i capelli appena fatti perché si sa che una in burnout è appena uscita dalla parrucchiera una bottiglia di merlò 98 sul tavolo una sigaretta sporca di rossetto tra le dita e dei singhiozzi che sembrano più orgasmi in pratica una sorta di kate middleton a fina giornata è ovvio che quando simon biles il fatto di stare male lo dichiara struccata risoluta sola tranquilla una conferenza stampa questo può creare qualche disagio questo può creare qualche diffidenza e questa è anche la prova che a una donna non basta neanche una vita di salti mortali per essere creduta ma per quanto riguarda me io ho deciso di affrontare con la psicologa questo percorso dell'ansia anche perché io oltre a soffrire d'ansia soffro d'asma una roba simpaticista una vita incredibile la mia piena di emozioni anche perché l'ansia e l'asma quando si incontrano giocano come se non ci fosse un domani il mio domani in sostanza io quando va bene mi sudano le mani tutto il giorno quando va male rischio di morire nel sonno in pratica la gente di notte fa l'amore con il proprio compagno la propria compagna io sembro un carlino che sale le scale più o meno la situazione è la stessa e anche perché diciamolo morire di asma e ansia sarebbe un po svilente cioè non è come morire di tumore c'è asma e ansia è una roba brutta sono poi trapper delle malattie cioè mi immagino bro asma flexo sto polmone cioè non è una roba bellissima e allora la mia psicologa mi ha fatto fare un percorso mi ha detto serena tu devi prendere per mano la tua ansia guardare un punto fisso e fartela e come dire come una sorella come una compagna dovete raggiungere insieme un obiettivo comune ecco sappiamo tutti che queste sono cavolate io non ci credo assolutamente ma visto che sono povera e voglio monetizzare ho deciso di fare un progetto e di proporlo a netflix quindi di fare un grande remake e di fare una serie tv dal titolo un'ansia per amica molto semplice siamo in una cittadina americana come fosse appunto una star solo ci sono jacqueline e madison che camminano per strada quindi biciclette che scampanellano gente che saluta a un certo punto madison incontra jacqueline scena uno e l'acqua incontra e dice jacqueline come stai oggi? Ah di merda e tu? io penso al suicidio da stamattina buona giornata buona giornata anche a te la liberazione del poter dire di stare male male ecco mi fanno anche la clac ecco io non lo so a che punto sono con l'ansia non l'ho ancora capito quello che so che sto cercando di sostituire i miei incubi con videoclip di Britney Spears you gotta work bitch grazie Grazie.